Anche la Lega Nord Trentina ha voluto esprimere tutto il suo disappunto per la scelta romana di chiudere il reparto maternità di Arco. Alcuni militanti si sono riuniti oggi davanti all'ospedale ed hanno espresso la loro contrarietà alla scelta, convinti che il reparto maternità è essenziale per il nostro bacino di utenza. Noi credevamo che con una giunta autonomista certe decisioni non venissero prese a Roma. Invece abbiamo visto che sull'ospedale di Arco, sul punto nascita di Arco, il Trentino deve soccombere davanti alle decisioni tecniche o scientifiche di una commissione ministeriale romana. Ci aspettavamo che una provincia guidata dal partito autonomista sapesse fare altre scelte, anche perché una struttura come questa è una struttura all'avanguardia, qui c'è un centro di protezione assistita importante e quindi non si può dire che qui non ci sono le capacità tecniche e scientifiche per tenere in piedi un punto nascita. Probabilmente nel tempo si è voluto arrivare a depotenziarlo per arrivare a questa decisione. Noi siamo felici che Cavalese e Cles mantengano i punti nascita, ben venga, però credevamo che anche Arco potesse avere questa specialità. Credo che a questo punto ci debba essere una forte protesta da parte dei sindaci e dell'amministrazione comunale di questa zona, che sono tutti della stessa parte politica che a Trento ha preso queste decisioni, quindi sono complici politicamente della giunta provinciale. Crediamo che debbano con forza manifestare la loro contrarietà per fare retromarcia su questa decisione. A livello provinciale farete qualche azione? Credo che interesseremo ovviamente il Consiglio provinciale di questa scelta nelle prossime, appena possibile, nei prossimi giorni e prossime settimane. Ripeto, è una decisione politica, cercheremo di smascherare coloro che sono favorevoli e coloro che sono contrari. L'altro giorno si è riunito il coordinamento Pro Punto Nascita, composto dai consiglieri di minoranza appartenenti ai comuni e alla comunità dell'Alto Garda e Ledro. Alla luce del parere negativo espresso dal Comitato Percorso Nascita Nazionale, il coordinamento pone un esplicito invito alla conferenza dei sindaci, che si è riunita oggi, affinché venga convocato un Consiglio generale di comunità allargato a tutti i consigli comunali. Tale richiesta è motivata dalle carenze dei dati tecnici presi in esame dallo stesso Comitato Ministeriale, che hanno portato ad esprimere parere negativo in relazione al mantenimento del punto nascita dell'ospedale di Arco. Si ritiene che, da detto Consiglio generale, che dovrà essere convocato con carattere d'urgenza non oltre il 5 luglio, possa emergere un segnale forte di unità di intenti, capace di coinvolgere tutte le forze politiche, quale unico percorso in grado di salvare il punto nascita di Arco. Grazie.